Temiamo sul parco, per un'intervento, Lorenza Morelli. Allora, grazie a tutti, grazie ad Alessio per l'invito, grazie a me la mia porta a blu, in un momento di poterosa io me li porto sempre dietro, a parte gli scherzi. Quando ci siamo confrontati con Alessio per capire quest'anno di che cosa avevamo parlato a di noi, visto che già lo scorso anno avevamo parlato di industria, e lui mi ha detto, guarda, perché, visto che tu sei giurista di impresa, ma sei anche nella commissione Casa Italia per la messa in sicurezza, e non potevamo non parlarne adesso che è arrivato anche il ministro competente, non parliamo di uno dei due temi, o piano industria 4.0, oppure la questione immobiliare. E io gli ho detto, ma pensiamoci un attimo, non sono mica distinti questi due discorsi. Il tema della sicurezza è un tema che pervade tanto il settore immobiliare, e qui abbiamo il rappresentante direttore generale di Asso Immobiliare, e Mirko Annibali, collega fiscalista e rappresentante del mondo istituzionale. Il tema della sicurezza è un tema che pervade qualsiasi ambito del nostro vivere comune, l'ambito delle aziende, perché un'azienda va messa in sicurezza dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista economico, dal punto di vista fiscale, e dal punto di vista del trapasso generazionale. Ma anche tutti gli altri ambiti del vivere quotidiano. Ho sentito parlare qui oggi molto di campagna elettorale americana. Io, essendo mezza di famiglia americana, ritengo che comunque, a prescindere dalle giuste valutazioni che ho sentito fare, i più competenti e i più autorizzati a parlare delle elezioni politiche appena trascorse siano loro, perché comunque alla fine noi siamo interessati di relato, ma il governo che andrà a incluire direttamente sarà quello. Però la campagna elettorale americana ha fatto leva sulla sicurezza. Trump ha parlato di costruire un muro. E quindi no, tema della sicurezza, tema del muro, se non guardo, sono tutti temi legati. Come possiamo fare a unire le buone pratiche del settore industriale e del settore immobiliare? Il governo, di cui abbiamo avuto stamattina dei rappresentanti e abbiamo adesso una rappresentanza d'eccellenza a livello governativo, lo sta facendo, non solo con il piano industria 4.0, che come dicevamo stamattina a tavola di lavoro, è non finalmente l'Italia ricomincia a parlare di impresa, no, finalmente abbiamo una norma che inizia a parlare di impresa. Perché il fatto che in Italia abbiamo avuto delle grandi aziende eccellenti, io sono torinese e Torino è stata nota nel bene annuale, perché poi anche qui nessuno è proprio tentata per la Fiat, ma non significa che il nostro paese abbia avuto una politica industriale. Noi abbiamo avuto degli grandi imprenditori, degli imprenditori che sono stati capaci di fare impresa nonostante nel nostro paese non ci sia mai stata una legge sull'impresa. E da che cosa dimostriamo tutto questo? Lo dimostra il fatto che non c'è un'università che forma gli imprenditori. Noi formiamo architetti, formiamo ingegneri, formiamo avvocati, ma ditemi voi quando, se andiamo a parlare di start-up, chi mai vi ha insegnato come si fa una start-up? Chi mai vi ha insegnato quali sono i fondamenti della tenuta di bilancio? Chi vi ha insegnato quali sono i rapporti istituzionali da tenere o no? I codici bancari? E tutte le passi che chi segue l'azienda deve imparare a conoscere con la pratica. La formazione è una forma di sicurezza aziendale. L'azienda è messa in sicurezza grazie alle norme. Parlavamo da San Diego e ci confrontavamo le norme che sono adesso all'ordine del giorno del governo per le valutazioni, qui di nuovo professionisti d'eccellenza che dovranno fare le valutazioni opportune a livello immobiliare per le perizie, per capire come mettere in sicurezza l'Italia. Fatalità. Abbiamo rilindito le pagine dei giornali in questi mesi parlando di fatalità. La fatalità non esiste, smettiamo di raccontarci questa cosa. La terra ha sempre tremato. L'unica fatalità certa è che continuerà a succedere. E noi siamo troppo intelligenti per permettere che il nostro patrimonio immobiliare crolli davanti ai nostri occhi. E ora di smetterla, mettere in sicurezza il paese è un dovere civico che abbiamo e si può fare. Bisogna pensare a delle misure. Come unire misure finanziarie e misure immobiliare? Io mi occupo di aziende. Molto semplicemente. Uno spunto così a caso. Il trapasso generazionale. Nel momento in cui un immobile io lo eredito dal mio padre o dai miei nonni, il governo deve prevedere degli incentivi affinché io, ereditando, possa mettere in sicurezza quell'immobile. Cosa fa questo? Crea un volano di rivalutazione immobiliare. E quindi crea questa immobiliare. Permette ai giovani di continuare ad avere un diritto costituzionalmente garantito che è diritto all'abitazione e crea e continua a creare industria perché l'industria è ciò che ci permette di mettere in sicurezza gli immobili. Per Bertini, e qui concludo e lascio un breve saluto anche agli amici Paolo e Mirko, dopo il terremoto dell'Irpinia, disse che l'unico modo per rendere onore ai morti è quello di tutelare i vivi. E quindi basta applaudire i campanili che crollano, ma iniziamo a fare in modo che non crollino più. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 così presente come è stata al Mipim, la Fiera Mondiale dell'Immobiliare l'anno scorso e spero che ci arriverà pure quest'anno, dei messaggi che si è riuscita a trasmettere per me con un futuro reverenziale e sono stati fondamentali per tutto il Paese perché da allora si sta parlando di messi di sicurezza Scusate, dobbiamo chiudere perché sennò sporriamo con i tempi, quindi erano 5 minuti ed erano 5 minuti solo che da allora che ho fatto soltanto il riprodo ci rischiate conterebbe anche un complimento e la mia amica è lì, quelli e anche l'allegamento è il contrario io ho poiché responsabilità per cui quando ho esercito la mia funzione legale penso al dinamismo, penso a la formazione che mi ha toccato tra di sempre tutti questi anni quindi sacrificio l'idea speciale della guardia di fidanzo per la piena sicurezza c'è la sola espressione del mess quindi quello che vuole dire è che io stamane come dire ho trovato molto piacere nel acquisire anche argomenti argomenti diciamo industriali da tradurre a diesel model sul piano settore telecale dico questo lo dico in ogni tavola che mi trovo dedicati insomma anche quando dovrebbero presenziare la tavola di concertazione celerità speditezza idee ma idee che si concretizzano in modo necessario chiaramente in norme di legge quindi il labbra del principio la norma e la relazione me leggi vado a rispettare grazie mille grazie bene